Maratea e Moliterno, candidate a Capitale della Cultura 2026. Sì, siamo tra le dieci finaliste ed è un orgoglio particolarmente importante per tutta la regione Basilicata perché è una regione che si può unire attorno a questa candidatura, a un progetto concreto che può ridare ai nostri territori una nuova speranza, quella di far accadere qualcosa attorno alle attività culturali, agli eventi culturali e far sì che questo progetto, questa proposta posso unire invece che dividere, quindi davvero un percorso entusiasmante e il 5 marzo in audizione al Ministero proveremo a portare la voce di tutte le aree interne della Basilicata e della splendida costa di Maratea per vincere il titolo di Capitale Italiana della Cultura.